Previsioni per sabato 20 luglio. La pressione è in aumento al nord e sulla Lombardia per una giornata in prevalenza soleggiata su tutti i settori. Durante il pomeriggio, formazione di addensamenti cumuliformi sulle Alpi con associati temporali sparsi, che verso sera si potranno estendere anche alle pianure limitrofe, specie sulle province di Bergamo e Brescia. Temperature in lieve aumento, massimo intorno ai 30 gradi. Previsioni per domenica 21 luglio. Un campo di alte pressioni protegge il nord-ovest e la Lombardia, garantendo una domenica con sole e caldo quasi ovunque. Solo sulle Alpi, durante il pomeriggio, sviluppo di addensamenti cumuliformi con rischio di qualche isolato e breve temporale, specie tra Orobi, Adamello e Alto Garda. Inottata, tendenza a maggior nuvolosità e qualche rovescio anche sulle pianure, per correnti orientali al suolo. Temperature in ulteriore aumento, caldo estivo un po' affoso ma senza eccessi, con massimi intorno ai 31-32 gradi.